E per le nostre interviste, perché golf? Perché no? Massimo Vaccari, Max. Lavoro, sono un pony express. Quelli che portano... Di tutto, diciamo, ecco. Quelli che portano i pony. Pony, sì, dai, portano i pony. Beh, giocavo con mio padre quando ero piccolino, poi mi sono rotto le scatole, non mi è più piaciuto, trattavo i ferri nel campo e ho ricominciato dopo 25 anni. Diciamo che come handicap sui 30. 30-36. Beh, l'ho scoperto perché mio padre giocava, quindi portava i fratelli a giocare. Giochi con il pony. Sì, dai, poi magari con gli amici o quelli che adesso sono 3D handicap che giocano per tutto così, ecco, non faccio nomi perché sennò non sono pubblicità. Roberto Bovone, Consuelo Massazza, di Colcittone. Ciao, ciao! Che barba! Prima. Sì, sufficiente. Mi piaciucchia, mi piaciucchia, non ci muovo ma è piaciucchia. Cioè, non è, sei stato appunto del tutto, non ci muori dietro. Non ci muoio dietro ma quando gioco do il mio... Vuoi dare il massimo. Voglio dare il massimo, sì. Le tre cose più importanti, uno stare bene, di testa, di fisico e tutto quanto. Le tre cose per giocare bene, avere, diciamo, ferri e mazzi al loro posto, tutti perfetti, e fare un punteggio. Basta. Secondo me. Tentare di farlo, dai! Il colpo più bello che ho fatto è stato un 120 metri a Camuzzago con l'argo davanti, un wedge e sono arrivato in green. È un gioco che bisogna, prima di giocare, bisogna capirlo. E poi forse lo puoi giocare. Grazie mille e... Ci sta! Ci sta doppiamente. Grazie mille e...